Sono 4.000 posti secondo la nuova direzione degli award, si chiedono a vedere i volti notissimi e abbiamo... Lello se ti ritiri siamo rovinati, abbiamo ancora parecchia... Signori, ecco Gregory Peck, che è stato per qualche anno anche lui presidente degli award, sempre uguale malgrado gli anni, lo stesso aplomba, la stessa grinta, lo stesso indimenticabile volto. Stà per presentare Gregory Peck, 5 attrici bravissime e bellissime. Ecco le nomination. From Camille Caudel, Isabel Adjani. Isabel Adjani, Camille Caudel, l'ha voluto lei questo film. L'amante e l'espiratrice di Gerard Deportore, Rodem. Eccolo, primo piano. Shirley Valentine è la storia molto divertente di una donna che decide di lasciare la famiglia che fa la parte dell'ospedale, di scappare in Grecia con un'amica dove nasce una storia d'amore con un pescatore greco, poi scopre però che lo fa tutti gli anni, quindi ritorna in famiglia. Eccolo, sottotitura che si sei un canale. Ecco, Jessica Lange, per Mucicbox. nel ruolo insolito di una cantante di piano bari, i pavolosi Baker. E qui un trionfo annunciato, vediamo se viene confermato, quello di Jessica Tandy di A Spasso con Daisy. Ha recitato a teatro con Marlo Brando, su due dopo la guerra, un trento chiamato Desiderio. E' il momento. Confermato, ha vinto Jessica Tandy. Stiamo per sentire il titolo del film che vince l'Oscar, quale miglior film del 1990. Ci faranno però un po' soffrire perché non avverrà subito la programmazione dell'Oscar. Credo che abbiano fatto apposta per tirar su un po' di suspense, come si dice. Ecco a Judy Garland che canta Over the Rainbow, dal Mago di Oz. Stiamo per sentire il titolo del film che vince l'Oscar, quale migliorare subito. Stiamo per sentire il titolo del film che vince l'Oscar, quale migliorare subito. Buon appetito. Grazie. Grazie a tutti.